Abbiamo ritrovato un po' di serenità, un po' di consapevolezza, un po' di tranquillità e soprattutto una compattezza del gruppo. A me piace sempre avere un gruppo unito, coeso, che cerca di lavorare per ottenere il risultato, che cura i particolari, che si migliora nei difetti e in quest'ultimo mese l'ho visto. Nasconde un sacco di insidie, perché è una squadra che non è che si pensa a difendere, è una squadra che comunque affronta le partite giocandole. Ha tre giocatori che ci possono creare un bel po' di problemi, dal Guidone, dal Margiotta, Venitucci, ma lo stesso Ilaria a centrocampo sono giocatori importanti per la categoria. Dobbiamo capire che sono queste le partite che sono importanti per noi, perché è uno scontro diretto, siamo lì a pari punti, quindi è assolutamente importante tirar fuori una grande prestazione e non pensare assolutamente che sia una partita facile. È chiaro che pretendiamo sempre il risultato, io per primo, però c'è uno storico che bisogna sempre avere presente, perché questa è una squadra che è nata da una tragedia, tragedia nel senso sportivo, sia ben chiaro perché le tragedie poi sono altre. Però è chiaro che ha segnato all'interno di ognuno di noi, compreso voi giornalisti, quindi è chiaro che ritrovare questo discorso, questa compattezza, questa voglia di lottare, di essere umili, di essere applicati, sicuramente non era facile. Ci vuole tempo e ci vuole tanto lavoro. Sono convinto che hanno portato una ventata nuova, perché comunque si fanno sentire, perché sono giocatori non indifferenti sotto l'aspetto caratteriale, ma mi ha impressionato sia Forte che Cruciani come sono entrati subito in sintonia con il resto del gruppo. È tutto falsato quest'anno, quest'anno è un campionato che chiaramente dobbiamo essere bravi a venire fuori da questa classifica e poi dobbiamo assolutamente adesso spingere sull'acceleratore e vedere quello che succede dopo.